Ci sarà Nino Frassica, ma anche Maurizia Laurito e Giuliana Desì, oltre a spettacoli riservati agli studenti. È tutto pronto per la nuova stagione teatrale del Comune di Canosa, in collaborazione con il Teatro Pubblico Pugliese, nella bella cornice del Lembo. La presentazione del programma questa mattina. Una programmazione molto variegata, perché accanto al teatro di prosa abbiamo inserito uno spettacolo per le famiglie e la scena dei ragazzi. Quindi una programmazione per i più piccoli, per gli studenti della scuola primaria e per quelli della scuola secondaria di primo grado. E pertanto un'attenzione particolare ai giovani per inserirli, perché possano appassionarsi al teatro, al linguaggio tipico del mondo dell'arte. E poi ritorna l'iniziativa che vede la sinergia tra il mondo imprenditoriale e il comune e la scuola, il mondo scolastico. Cartellone affidato all'assessore alla cultura Cristina Saccinto alla presenza del TPP con Sante Levante. Si parte subito il 19 novembre prossimo, Nino Frassica e le 100 canzoni rivisitate, un'operazione di memoria musicale con tutta la verve comica dell'artista siciliano. Poi altri sei appuntamenti per i più grandi e quattro invece per i più giovani, per gli studenti delle scuole a partire dal 18 gennaio con Armando a cura della compagnia Armamaxa. Dobbiamo dare segnali fattivi alla città. Uno era questo, l'avevamo promesso in campagna elettorale, lo stiamo facendo, è partita la stagione, partirà la stagione teatrale. Però noi vogliamo, ora non voglio fare promesse, però comunque vorremmo, la nostra idea è che il teatro sia aperto ogni giorno, più giorni. Ma sullo sfondo c'è la certezza che luoghi di prestigio e cultura come il Teatro Lembo debbano essere dei contenitori aperti con costanza per diventare dei presidi unici di formazione. E questo, come ribadito anche dal sindaco di Canosa Vito Malcangio, uno degli obiettivi essenziali dell'amministrazione comunale. Noi ce l'abbiamo, quindi dobbiamo sfruttarlo al meglio. Chiaramente da parte dell'amministrazione deve organizzare in modo tale che la cosa possa essere fruibile nel migliore modo possibile. Ripeto, ci stiamo lavorando e il nostro obiettivo è aprirlo. Ce l'abbiamo, lo dobbiamo sfruttare.